Eccoci qua ben ritrovati ed un cordiale saluto. Guardate alle mie spalle la grafica è abbastanza chiara, anzi chiarissima, limpida, limpida, limpida come il cielo appunto che avremo in questo fine settimana e quindi anche nella giornata di sabato. Bel tempo, una stupenda giornata, molto mite, quasi calda ed in effetti avremo temperature minime. A risveglio comunque fresche tra gli 11 e i 12, 13 gradi, anche 14, 15 gradi nei grossi centri abitati, nelle grandi città, ma le massime guardate si attesteranno attorno ai 25, 26, localmente attenzione anche attorno ai 27 gradi centigradi. Quindi davvero un bell'inizio di weekend, un weekend da gustare. Arrivederci!